Nella precedente video-lezione abbiamo conosciuto Aristotele, mentre in questa scopriamo insieme cosa ha scritto e quindi quali sono le sue opere. Prima di iniziare ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posto. Iniziamo a dividere gli scritti di Aristotele che ci sono pervenuti in scritti acroamatici o esoterici e scritti esoterici. Gli scritti acroamatici o esoterici sono gli scritti scolastici che Aristotele compose come aiuto nell'insegnamento, come appunti per le sue lezioni. Questi scritti comprendono diverse tematiche, dagli scritti di logica, agli scritti sulla metafisica di cui parleremo approfonditamente, agli scritti di fisica, storia naturale, matematica e psicologia, fino ad arrivare all'etica, alla politica, all'economia, alla poetica e alla retorica. Gli scritti esoterici invece sono scritti in forma dialogica e destinati al pubblico, dove Aristotele fornisce in modo più approfondito le sue teorie grazie anche all'utilizzo di miti, che anche lui come Platone utilizza per spiegare in modo chiaro ed esaustivo la sua filosofia. Purtroppo però degli scritti esoterici sono rimasti soltanto dei frammenti, seppur siano comunque importanti. Di questi dialoghi Aristotele riprese la forma letteraria utilizzata dal maestro, scrivendo un suo simposio, un politico, un sofista e altri scritti che puoi leggere appunto in questa slide. In particolare voglio porre l'attenzione su il protrettico, corrispondente all'eutidemo, che è un'esortazione alla filosofia. Infatti in questo scritto dice o si deve filosofare o non si deve, ma per decidere di non filosofare è pur sempre necessario filosofare, dunque in ogni caso filosofare è necessario. Poi scrisse l'eudemo o dell'anima, che corrisponde al fedone, e anche un piccolo trattato chiamato dell'idee. Nella prossima puntata iniziamo a parlare della filosofia di Aristotele. Ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e di attivare la campanella per le notifiche. Ti aspetto nella prossima puntata.